Si è svolto a Silvi l'atteso appuntamento dal titolo Legalità, Sicurezza e Giustizia, organizzato la presenza di alcune classi dell'Istituto Alberghiero Zoli con il colonnello Sergio De Caprio, il leggendario capitano ultimo, artefice della cattura di Totorina, boss di Cosa Nostra. Catturando l'attenzione dei presenti, il capitano ultimo ha raccontato le diverse fasi di una vita, la sua dedicata agli altri e alla giustizia. E' importante per me incontrare le comunità, incontrare un modo di essere italiani che è essere fratelli, accanto oggi ai ragazzi, accanto alle donne, accanto alle persone che vengono discriminate. Siamo qui per far vedere che esiste un'Italia delle comunità che è diversa dall'Italia dei dominatori, delle fazioni. Lo costruiamo nelle piccole cose e quindi sono qui per dire a queste persone, a queste comunità, a questi cittadini che sono importanti, sono la bandiera, sono l'unico valore per il quale vale la pena donarsi completamente. Una pagina di scuola davvero emozionante e valorizzata dall'interazione vivace e interessata degli studenti che hanno colto con grande entusiasmo l'atteso ospite. Un incontro che per il sindaco costiero Scordella ha rappresentato un importante progetto educativo sui valori della legalità e del rispetto delle regole. Una giornata importantissima sulla legalità e sulla sicurezza, soprattutto con i giovani, in cui hanno come ospite oggi una persona di spicco, insomma che ha fatto del suo nome la storia della legalità e della sicurezza. Siamo felicissimi che il capitano ultimo oggi è qui con noi, soprattutto perché dà un segnale su un territorio importante come quello costiero in Abruzzo e dunque veramente bello, una bellissima giornata a cui possiamo apprezzare. Lei ha appena finito un incontro privato. Abbiamo toccato i temi della legalità, soprattutto in questo territorio, in questo momento storico che è difficile anche con le famiglie in difficoltà. Dunque abbiamo spiegato un pochino alla cittadina che vive su due realtà, quelle dei 16.000 abitanti circa durante la fase invernale, ma soprattutto in quasi 80-90.000 presenze durante i giornaliere e durante l'attività estiva. Dunque abbiamo parlato anche delle forze dell'ordine e del grande lavoro che si svolge sul territorio.